bob sinclair è stato sposato per 20 anni con ingrid aleman insieme hanno avuto due figli rafael e paloma nati rispettivamente nel 2000 e nel 2003 che oggi hanno 24 e 20 anni dopo la separazione avvenuta perché la donna pensava che il noto dj francese non fosse la stessa persona sia nel privato che in pubblico si vociferava che al suo fianco ci fosse una nuova fidanzata galina i due erano stati avvistati insieme nel 2020 sulla spiaggia di saint barthelemy in francia anche se non è mai stato confermato che fossero ufficialmente una coppia ingrid aleman e bob sinclair sono stati una coppia per 30 anni di cui 20 da marito e moglie nel 2018 però il loro matrimonio è però arrivato al capolinea ed è stata la donna a prendere la decisione di interrompere il rapporto le motivazioni della modella come ha spiegato il sito francese voici sono state ben precise bob va a letto presto rifiuta le uscite mondane la sua vita è davvero troppo noiosa ho troppa voglia di divertirmi dal matrimonio tra bob sinclair e ingrid aleman sono nati due figli rafael e paloma rispettivamente nel 2000 e nel 2003 il primo a oggi 24 anni mentre la seconda ne compirà presto 20 sui social sono diverse le foto che mostrano i due ragazzi insieme al padre condividendo con lui diverse esperienze di vita tra cui la passione per la musica nonostante i genitori non siano più una coppia hanno mantenuto con loro uno stretto legame